Per il meme si gioca questa Esatto Amcha, vai Aspè anche questa parte si fa in... Ok, non si capisce niente Dove siamo? Che sul capo è successo? Noi stiamo continuando a salire Ok Noi no No, no, no Uhhh Chi l'ha fatto questo? Ahahahah Dark dove cacchio sai che c'ho visto? Aveva due quindi Nooo Ma io Nooo Ahahahah Stacco Perché doveva essere quello tra tutti? Oh Come sei arrivato lassù in cima? Ma come ho fatto? I bumpers Si vedono Quando li figgio io non salto così in alto Eh, devi beccarli i giusti Devi prenderlo con la velocità giusta Ah ok Quindi io non ho... Uhhh che ciclino Ah ahahahah Ah Riusciti in due e non riusciamo a fare la curva giusta Ah Ok Ah Ok Ah Nooo No, no, no Ok adesso Ho la telecamera che continua a pieparmi nei muri e ogni tanto non capisco cosa diavolo... Nooo 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 Se qualcuno prende la prima le botte Madonna Porca puttana La prima è super ingiocabile La prima è super ingiocabile Ombra Allora Ho mancato le string Nooo 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 Ok Nooo Nooo Dannazione è successo il nuovo il nuovo siamo in giro siamo in giro siamo in giro si va bene tranquilli tanto non prendere il mio no non credo averlo preso ok il preso dove l'ho preso io dannazione aspetta cosa è successo e stiamo provando il soggetto rarissimo che niente tu lo tiri e se colpisce qualcuno lo fare ma che cazzo che è un quanto è stato indietro lunga no è troppo lunga lunga poi però dai no 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 prendete quella prendete l'espb no anche noi siamo caduti un paio di volte 86 no siamo l'ultima siamo l'ultima guida ce la facciamo vuol dire che non ce la fate giocare insieme comunque i altri che è due ma cacchi voi due quando giocate con noi andate bene ma il momento che mi è sono le bughe il problema quando non si cade giochiamo benissimo anche insieme dove dove cosa io sto fermo no